Passa il tempo ma gli stratagemi usati per truffare gli anziani restano grosso modo sempre gli stessi. Tra quelli per così dire classici c'è sicuramente la truffa dei finti tecnici della società del gas, dell'acqua o elettrica. Suonano il campanello di casa con la scusa di un controllo all'impianto idrico e convincono il padrone a mettere tutti i soldi ed i gioielli nel frigorifero per proteggerli. Ovviamente rubano tutto. Altre volte si presentano in due e distraggono l'anziano chiedendogli un bicchiere d'acqua. Nel frattempo rubano dalla camera da letto. Un altro classico è quello della telefonata da parte di un finto avvocato che segnala come un familiare si è trattenuto presso la caserma dei carabinieri a seguito di un sinistro stradale e per rilasciarlo sia necessario pagare una cauzione. Invitano quindi la vittima a chiamare i carabinieri attraverso 112 ma in realtà non chiudono la comunicazione. La telefonata quindi prosegue sempre con lo stesso interlocutore che finge per l'appunto di essere un carabiniere. Poco dopo si presenta a casa un complice che oltre al denaro spesso si impossessa anche dei gioielli. Una truffa tutta nuova invece è legata alla vicenda della legionella. Il malfattore si presenta alla porta di casa indossando un cappellino e una maglietta con la scritta polizia locale sostenendo di dover controllare l'impianto idrico per scongiurare la presenza del batterio ed invitano il proprietario di casa ad uscire oppure a proteggere il denaro e i gioielli come sempre mettendoli nel frigorifero. Il consiglio diffuso dai carabinieri è come sempre quello di non aprire e non fare entrare assolutamente in casa sconosciuti anche se indossano o mostrano stemmi riproducenti uniformi delle forze dell'ordine. È importante chiedere agli sconosciuti di esibire un documento d'identità o una tessera di riconoscimento e in ogni caso contattare subito il 112 segnalando la presenza di questi sconosciuti. Un altro consiglio è quello di non spostare soldi e gioielli ma lasciarli dove sono, possibilmente non in camera da letto. In caso si sia stati vittime di truffa è importante non perdere tempo e avvisare subito le forze dell'ordine al 112 o al 113. Sempre carabinieri sconsigliano agli anziani di sottoscrivere nuovi contratti per utenze sia via telefono sia davanti ad incaricati.